Grazie a tutti di essere qua, ci troviamo alla prima edizione della Year in Startup Award, allora si tratta di un concorso per start up, abbiamo ricevuto candidature da 85 start up, grazie appunto all'organizzazione di intesa abbiamo contattato incubatori e acceleratori a livello europeo, di questi 85, 25 hanno partecipato alla seconda fase di selezione. Le 25 start up hanno incontrato i vostri collaboratori a Reggio Emilia. Tutturiamo adesso con le 8 start up, le 8 che si sono presentate meglio e che avevano un business più affine a quello di IREN. Diciamo abbiamo la giuria in prima fila con i primi livelli di IREN, con il presidente, il vicepresidente, il top management. Quindi il vincitore della prima edizione di IREN Startup Award 2017 è Enerbrain. Grazie a tutti i primi livelli di IREN, con i primi livelli di IREN, con i primi livelli di IREN.